Nelle scorse lezioni abbiamo visto i metodi hide e show e abbiamo visto dove trovare altri metodi. Prima di dare un'occhiata più specifica alla documentazione parliamo un attimo della tipologia di metodi che troviamo in jQuery. Ci sono vari tipi di metodi e possiamo raggrupparli in tre categorie. La prima categoria è quella dei DOM manipulation methods. Questi metodi in pratica ci permettono di manipolare, di cambiare il DOM. Possono ad esempio aggiungere, rimuovere o trasformare elementi HTML, possono aggiungere, rimuovere o trasformare gli attributi degli elementi HTML, possono trasformare gli elementi HTML con opportuni effetti e molte altre cose di questo genere. Un'altra categoria di metodi sono i DOM traversing methods e questi metodi in pratica ci permettono di muoverci all'interno del DOM applicando metodi per passare da un elemento all'altro. Ad esempio passare da un elemento parent a un elemento child, passare viceversa da un elemento child a un elemento parent o passare da un elemento ad un altro elemento adiacente. Quindi muoverci attraverso il DOM. Poi abbiamo un'altra tipologia di metodi, gli event methods. Questi metodi ci permettono di creare effetti in conseguenza di un evento che può essere ad esempio un click del mouse, la digitazione di caratteri sulla tastiera o lo scroll del mouse. Bene, diamo adesso un'occhiata alla documentazione di jQuery. Quindi andiamo su jQuery.com, clicchiamo su API Documentation e qua possiamo trovare la lista completa dei metodi che possiamo utilizzare in jQuery. Ovviamente sono moltissimi, in questa lezione non li vedremo tutti, ma volevo solo mostrarvi come sono suddivisi, così che possiate avere un'idea dove cercare i metodi e quali utilizzare. Poi ovviamente entreremo nello specifico di alcuni metodi nel corso delle lezioni con vari esempi. Iniziamo dando un occhio alle varie categorie. Se andiamo sotto possiamo trovare alcuni manipulation methods. Clicchiamo qua su class attribute. In questa categoria possiamo trovare alcuni metodi come add class che agiscono sulle classi degli elementi. Ad esempio, questo metodo add class aggiunge una classe nell'elemento che selezioniamo. Quindi se clicchiamo, vediamo che se inserisco il metodo add class a un elemento e inserisco all'interno come parametro il nome di una classe, l'elemento del DOM, in questo caso l'elemento P, avrà questa classe. Una cosa simile la possiamo fare per gli attributi. Ad esempio il metodo dot add ci permette di agire sugli attributi di un elemento, ottenendo il valore di un attributo oppure inserendo uno specifico attributo, come ad esempio può essere un href. Per quanto riguarda i manipulation methods, un'altra categoria interessante è la categoria CSS in cui possiamo ottenere o dare il valore di qualsiasi proprietà ad un elemento, ad esempio con il metodo CSS. CSS. Bene, abbiamo parlato anche di traversing methods, li troviamo qua. Questi metodi ci permettono di muoverci all'interno del DOM. Ad esempio con il metodo children possiamo selezionare tutti gli elementi children degli elementi che selezioniamo. Con il metodo last, ad esempio, possiamo selezionare solamente l'ultimo degli elementi che abbiamo selezionato. Ad esempio se selezionassimo il selettore li di una lista di cinque elementi, questo mezzo ci permette di selezionare solo l'ultimo. Avevamo parlato anche di event methods. Li troviamo qua. E qua abbiamo varie categorie a seconda del tipo di evento che ci interessa. Ad esempio qua possiamo cliccare su mouse events. E cosa sono questi metodi? In pratica ci permettono di associare altri metodi in relazione al comportamento dell'utente. Quindi ad esempio con il metodo click possiamo manipolare un elemento solo se l'utente clicca sul determinato elemento. Un'altra categoria di metodi sono gli effetti che rientrano nei manipulation methods e avevamo visto in una delle lezioni precedenti ad esempio il metodo hide e il metodo show che ci permettono di nascondere o mostrare l'elemento. Ce ne sono anche elementi come fading che ci permettono di sfumare un elemento e così via. Come ho detto i metodi sono tanti. In questa lezione abbiamo dato un'occhiata alle varie categorie che sono presenti e durante il corso li metteremo in pratica e li vedremo nel dettaglio creando progetti reali.